salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come vedere il proprio indirizzo ip su pc ovviamente per vedere questo indirizzo ip tu vai su cmd esegui come amministratore questo cmd e andiamo a scrivere ipconfig facciamo invio e come puoi vedere questo è il tuo indirizzo ipv4 questo qua su fisso dns specifico per connessione su fisso dns specifico per connessione e questa è la mia connessione ed eccolo qua quindi se questo video ti è stato utilissimo su come vedere il proprio indirizzo ipv4 sul pc ovviamente c'è anche un altro modo per vedere l'indirizzo ipv4 senza fare questo procedimento quindi se tu vai sulla tua connessione vai impostazioni rete e internet vai su impostazioni di rete avanzate quindi una volta andata su impostazioni rete e internet questa è la mia connessione io vado quassù e vado su visualizza proprietà al live indirizzo ipv4 questo qua e come puoi vedere se vedi su tuo cmd e su impostazioni di rete avanzate sono identici quindi se questo video ti è stato utilissimo su come vedere l'indirizzo ipv4 iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao